Per la precisione, il disegno corretto non è quello della figura 17, ma quello della figura 18. Infatti, il vettore FEM deve essere la somma vettoriale degli altri due vettori, cioè le DDP, VL e VR. Questo perché la legge di Ohm è simbolica? Vuol dire proprio questo, che la FEM è la somma delle altre due DDP e questa relazione è una relazione vettoriale. Quindi questo vettore, la FEM, è la somma di questi altri due. La FEM deve essere la somma degli altri due vettori.